Si è confermata giornata all'insegna del bel tempo un po' ovunque, per questo una giornata votata, le breve uscite fuori porta, ma anche all'inizio di un lungo ponte che si concluderà il primo maggio. Il 25 aprile, appurato l'importanza del valore storico della giornata, rappresenta anche la prima importante occasione per assaporare i primi scorci di primavera che quest'anno non ha tardato ad arrivare. Come sempre preferite le città d'arte, ma soprattutto le località marittime, facendo registrare ben 9 milioni di presenze in crescita del 13% rispetto al 2017. Il movimento economico pari a 2,5 miliardi di euro, con un più 9% su quello assicurato nel medesimo ponte nel 2017. La forza di attrazione di mare città d'arte è aumentata dal bel tempo che ha spinto ancora le prenotazioni last minute per il 25 aprile. Nello specifico le mete preferite solo nell'ordine del mare, scelto dal 33%, ma anche il turismo verde tra campagne, parchi e oasi naturali, 32%, città d'arte 20% e poi montagna e laghi. Con le previsioni di bel tempo un italiano su tre ha quindi deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della festa della liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti e manifestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti X, divulgata in occasione del 25 aprile, che evidenzia, dopo un lungo periodo di incertezza climatica, la voglia di evasione degli italiani. Tra questi in viaggio ben 7 milioni, precisa la Coldiretti, hanno colto l'opportunità di fare una seppur breve e vera vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa, spinti dal sole e dal caldo sopra la media. Molto gettonati gli agriturismi, dove oltre 800 mila gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola durante il lungo ponte, per cogliere l'opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città, secondo Campagna Amica. Molte delle 23 mila aziende agrituristiche presenti in Italia, conclude la Coldiretti, si sono attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi, ma anche di colazione al sacco, o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tender, roulotte e camper, per rispettare le esigenze di indipendenza e di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia, ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali. Grazie